Passare Bacigalupo del Golfo, commento alla partita? È stata una partita difficile anche se magari la classifica non diceva questo Siamo stati bravissimi in primo tempo, abbiamo fatto girare bene la palla Siamo andati in vantaggio per due volte e quindi abbiamo un po' limitato le loro incursioni In secondo tempo siamo entrati un po' meno carichi, ci hanno preso alti Siamo andati un po' di difficoltà a 20-25 minuti, poi dopo siamo stati bravi a gestirla un po' E a chiuderla con un bacio, è stato bravissimo a chiuderla Pensate che il risultato sia stato giusto? Sì direi di sì, perché alla fine l'ottimo primo tempo ha premiato Abbiamo fatto giusto 25 minuti a secondo tempo, ci hanno messo in difficoltà perché venivano lassù Abbiamo chiuso alla fine, dovevamo provare a fare gol prima sicuramente Però direi che è giusto la nostra vittoria, anche se venivano a fare complimenti a loro Perché comunque non hanno mai gollato un centimetro A chi avete dedicato il gol? Io lo dedico a mio padre che è così contento e dice che non glielo lo dedico mai Giustamente se lo merita tutto Io lo dedicherò alla mamma perché ogni domenica mi dice Mi raccomando fammi un gol, adesso ci viene una volta che lo faccio e lo dedicherò a lei Grazie 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 Grazie